Sapete perché le ciambelle hanno un buco? È una storia molto antica che i pasticceri tengono segreta. Tanto tempo fa esisteva un mostro assai rispettoso e molto molto goloso che prendeva da salto le cucine dove si preparavano dolci. Entrava di suo piatto e gnam, biscotti, torte farcite, budini, caramelle, cioccolatini, cornetti, divorava tutto con grande abilità. A quel tempo le ciambelle erano dei soffici panini pieni di un ripieno squisito, il più buono mai creato al mondo, che a dire il vero era anche il preferito del mostro. Ogni volta che i pasticceri tornavano in cucina non trovavano più niente, così con i clienti dovevano inventare mille scuse e dire che non c'era nulla da vendere. Temendo di rimanere senza lavoro, i più grandi maestri pasticceri si riunirono per trovare una soluzione. Ah, non si può continuare così, eh? Dobbiamo fare qualcosa. Chiamarono allora il mostro goloso e minacciarono che se non fosse sceso a patti con loro non avrebbero più cucinato neanche un dolce. Impaurito, il mostro chiese pietà e accettò di fare un patto con i pasticceri di tutto il mondo. Essi gli dissero «Scegli la cosa che ti piace di più». Il mostro ci pensò un po' su, poi esclamò «Ah, il ripieno delle ciambelle!» Allora i pasticceri risposero «Bene, potrai avere il ripieno di tutte le ciambelle del mondo, ma in cambio non toccherai più gli altri dolci e li lascerai a noi». Sconsolato, il mostro accettò. Da quel giorno, ogni volta che una ciambella viene cucinata, il mostro arriva e la luca per succhiare via tutto il ripieno squisito e riempirsi il pancino. Ma se gli altri dolci non li toccano, signore, è così che i pasticceri hanno inventato nuovi modi di guarnire le ciambelle. Zucchero, glassa, caniditi. Ma, ahimè, le ciambelle non sono più speciali come una volta, senza il loro ripieno. Se vi capita ogni tanto di trovare una fetta in meno di torta a casa o di non trovare più le caramelle che avete comprato, non temete, è il mostro delle ciambelle che, quanto quanto, di nascosto dai pasticceri, assaggia qualche dolce proibito. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.